Ciao, Gaetano caro, c'era la signora che si occultava, perché si occultava? Insomma aveva il marito che era dell'Udc, insomma non si poteva fare scoprire dal consorte. Questo presidente Berlusconi conquista le donne in maniera... Carri in famiglia, ma noi crediamo molto alle donne, quindi siamo sicuri che la signora col tempo, prima o poi comincerà il marito, non lo farà morire certamente il democratico, dove stiamo perso? Gaetano come vanno? Le cose stanno andando molto bene, soprattutto in mattinata c'è stata un'affluenza incredibile, abbiamo raccolto un sacco di adesioni, insomma per la costruzione di questo nuovo partito, a marzo insomma... Tu sei in questo gazebo, a quanto sempre stiamo vedendo se riusciremo a fare per il 20.1 il gazebo telematico qua, quindi io sarò qua con tutta la costruzione, ci sei tu e Angelo, quindi si potrà fare una bella squadra e lavorare in due giorni su, ciao Beppo!